Volevo portare la mia esperienza rispetto alle difficoltà di questo settore, in quanto la professione sanitaria nasce come missione verso l'uomo, missione verso la persona, e ovviamente anche missione verso la famiglia, però in questi ultimi anni ci siamo accorti che le crescenti difficoltà possono portare a un'alterazione di questo fattore, di questo dato. Queste difficoltà sono legate principalmente all'aspetto strutturale, all'aspetto contrattuale, ma soprattutto quello che può essere un aspetto psico-emotivo rivolto sia nei confronti degli operatori che anche nei confronti degli ospiti. Vi ricordo che comunque abbiamo a che fare con delle persone che sono dipendenti spesso completamente da noi e questa dipendenza può comunque portare a dei diversi fattori, fattori legati alla loro vita, alla loro sopravvivenza, al miglioramento della loro qualità di vita. Volevo porre proprio il dato rispetto a questo, in quanto con le difficoltà crescenti che ci sono nel settore, per noi operatori diventa sempre più difficile e complicato mantenere quella che è la missione iniziale, per cui ogni operatore sanitario dovrebbe fare questo lavoro.